Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è mercoledì 27, sono le 9.25, 9.30. Io ho lasciato la Sarina alle 9 all'asilo e poi sono tornata direttamente a casa perché stamani devo dare un po' una pulita generale a tutta casa. Dico la verità, non ho molta voglia stamani, zero proprio, però qualcosina devo fare. Ma più che altro perché stamattina ho dormito molto bene. C'era la Sara che si svegliava e piagnucolava, secondo me o si sognava oppure ha sempre un po' di raffreddore e non respira molto bene, anche se gli ho fatto lavagini nasali ieri sera, non lo so, quindi stanotte ho dormito un po' così, ieri sera poi fino alle 11.30 sono stata sveglia, per me è tardissimo, 11.30, ma non riuscivo a dormire, quindi sono un po' così stamani, però qualcosina devo fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.